Ieri sera sono stato sul set dell'Amica Geniale a Galleria Principe, devo dire spettacolare la ricostruzione di una scena del 1958, circa 150 comparse, la ricostruzione di com'era Napoli nel 1958 e poi grande soddisfazione perché è ancora una produzione di altissimo livello nella nostra città, ormai siamo il set cinematografico all'aperto più ricercato d'Italia e non solo d'Italia, ormai vengono produzioni da tutto il mondo e quindi segno che questa città viene scelta per produzioni di così altissimo livello e quindi sono davvero contento e l'impressione che non tratto ieri sera e davvero che sarà un prodotto eccellente.